sono diventato anche più capace di resistere ai colpi di martello sulla testa che gli avvenimenti mi hanno vibrato e ancora mi vibreranno. Un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte, di idee, una serie di conversazioni e video su un mondo che non sarà più come prima e sono molto felice di essere qui insieme al nostro primissimissimo ospite Daniele Diotti. Dunia, astrologo. Mattia Puleo, Eugenio in via di gioia, Angelo Calarco, Giorgia Delrico, Matteo Pericoli, Mauro Salizzoni, Acantonio. Buonasera dall'Istituto Gramsci di Torino, Soffredo Fofi e Giorgio Gianotto. Buonasera e benvenuti a questo appuntamento della Fondazione Gramsci Politiche Big Data, il futuro e l'algocrazia. Una discussione densa, lo spazio è sempre quello di un ottimismo della volontà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti